buongiorno allora sono qui all'ipercop e guardate cosa trovate scritte vari qua che sono bellissimi questi qua vengono 17 euro ma quelli che mi piacciono di più sono questi qua fatti con queste piante qua così bellissimi sono vediamo se metto il flash se si vede qualcosa ecco così si vede meglio queste piante qua sono bellissimi poi ci sono questi qua poi c'è questo qua con questa pianta qui non fate forte poi c'è questa pianta fatta così vedete l'umidità sul vetro questa sembra insalata poi c'è quella fatta così poi c'è la foglia di suocera un pane che si chiami così ma questo non c'entra niente quelli più belle sono quelle qua queste fa e questa qua queste qua sono bellissime buongiorno cioè da qualche giorno sta piovendo terra guardate 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 lo schifo ma adesso vi faccio vedere il peggio perché qua non si vede tanto perché è verde la pianta è verde quindi questa è la terra accumulata stanotte no guardate non si vedono nemmeno più le fughe in teoria sono nere quelle vedi quelle lì sono nere perché sono ancora bagnate quindi sono nere ha piovuto talmente tanta terra che sono diventate tutte guarda 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 non è più nera è marrone cioè guarda sulla scatola del condizionato guarda guarda cioè ma prima o poi sta terra africana lì finirà no cioè allucinante ma non vi dico il pavimento in casa pazzesco cosa intenzione di trasferire tutta la terra lì la la sabbia dell'africa tutta qua da noi cioè non basta quella che abbiamo noi di terra e sabbia anche quella degli altri ci dobbiamo ciucciare buongiorno allora scusate se sono un po spettinato qua e sapendo arrivati è un casino è un casino e siamo passati dalle minuti dal mare però ora un calabrone di non calabrone di morca miseria se quello entra in casa un casino e allora guardate dalla liguria dalla liguria alla val d'aoca questa è siamo passati dalla sacqua sabbia per esempio non ce n'è più ha piovuto perché ha piovuto credo che abbia piovuto questi giorni perché l'aria comunque fredda e saranno forse 20 gradi ma come sono pettinato ma saranno 20 gradi sì forse 20 gradi per essere quasi luglio e fa freschino e fa freschino niente c'è ancora neve lì c'è pila ma neve ce n'è pochissima hanno già chiuso anche la lì adesso non so se si vede allora aspetta lì dove c'è ecco aspetta lì c'è una striscia no la vede dice una striscia quella striscia lì che si vede quella striscia lì ecco quella striscia lì quella seggiovia che parte da da lì sotto da lì sotto vedi fa così sale su arriva fino lassù ecco fino lassù che c'è pila vabbè lì hanno già hanno già tolto tutta la seggiovia tutto il resto e comunque qua sabbia non hanno manco vista la sabbia solo in liguria ha piovuto sabbia non ho capito perché cioè adesso magari ho sentito che anche dalle parti d'altre parti tipo a milano c'era la non so se conoscete la chiara d'alessandro e tipo anche dalle sue parti che lei mi pare che sia lei non è milano e e aspetta è dove che abita lei lei abita a quartogiaro vabbè comunque l'intorno anche lì ha più tu sabbia e invece qua niente 0 0 assoluto quindi dovrà capire le volte le cose c'è in effetti aspetti guardando lassù adesso non si vede tanto però guardando un po lassù adesso non so non so se è il colore del sole però guardando lassù effettivamente non è proprio bianca è giallina è giallina secondo me la sopra un po di sabbia ci è arrivata e comunque sinceramente io non so se tutta sta sabbia faccia bene o faccia male al terreno perché cioè cioè mi ricordo che quando ero piccolo ti pioveva sabbia ma ma tipo una volta capitava una volta ogni morte di papa adesso cioè adesso piove solo sabbia comunque adesso siamo qua e per un po poi si spera torneremo in liguria si spera vabbè vediamo vediamo cosa succederà a dopo molto bene molto bene nel frattempo dall'altro video a questo ha vieno togliato i capelli prima ritaglio da solo perché tanto dove devi andare tra l'altro oggi eppure domenica quindi cioè parrucchieri soppure chiusi quindi boh e che devo abbottonare qua ecco e quindi ho detto vabbè mi facevano uno schifo non proprio brutti ho detto vabbè tra tutto ci ho messo un'oretta a tagliarli sistemarli pettinarli lavarli asciugarli un'oretta perché me la sono presa comoda perché sennò quarto d'ora 20 minuti entri a campare con la macchinetta trac guarda il micio bello bello mio gattino feta gattino bello feta né poi saluta saluta qua ciao ciao gattini ciao ciao gattini lei dorme lei dorme tranquilla sì lei dorme tranquilla sì è bella questa micia è bella questa micia è bella questa micia oh mamma mia che carina questa micia è tanto bella è tanto bella è bella lei è bella bella saluta ciao 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 vabbè adesso non fate caso qua che la casa è vuota c'è un sorpresione ma non vi dico ancora niente perché non voglio c'è ancora le tende vabbè non dico niente perché sai come si dice no? anche quando poi uno dice troppo alla fine succede un casino quindi è meglio non dire niente a nessuno niente a nessuno a dopo sono uscito un momento ma lì c'è tutta luce c'è qualcuno che c'è qualcuno che sta chiedendo soccorso una lampadina che lampeggia così un relai che c'è non è bastata una lampadina dai che si mette a accendere e spegnere la luce così in fretta impossibile sarà una lampadina che che funziona nel bing come dice che non funziona bene bu bu